Capitolo 3, Maintenance. Andiamo avanti, proseguiamo all'interno del manicomio. Cos'era quel coso? Ok, adesso dobbiamo andare avanti. Apriamo qui e spariamo all'affare che farà esplodere le porte e ci permetterà di andare avanti. Andiamo avanti. Prendiamo il revolver, sì. Pensavo fossi morto. Ho perso traccia di te, bla 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 bla. Non so cosa sia successo, ma sono felice che tu sia tornato. Che cacchio era? Ora, so che la vedi, vuole qualcosa da te. Solamente stai attento. Ok, devo tornare indietro. C'è una ventolona dietro una delle lavatrici. Mi apri le porte? Grazie. Ok. Quindi, tornando indietro... Oh, 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 oh. Mi fai gli scherzi. Uno, due, tre, quattro... Ok, perfetto. Quindi, entriamo all'interno della laundry room e qua dietro troviamo un'altra botolina. Questo mi fa sempre spaventare, cazzo. Tutte le volte. Porca miseria. Comunque, era inutile fare una facecam di questo gioco, anche perché non ha senso. Conosco questo gioco a memoria e non mi spaventa nemmeno per errore. Tranne quel tizio lì, che tutte le volte me lo dimentico. Ma va bene così. Ora. Dovremmo scendere qua sotto. Aiuto. Rapido, rapido. Ok. Eccoci qui. Se ci fossero munizioni... No, forse nell'altro ci sono munizioni, sì. Qua qualcuno non è stato molto bene. Ok. Apriamo il cancello che si bloccherà. Oh, no. Che mi fa, pss. Adesso... Ehi, eccola lì. Dobbiamo riaccendere le luci. La corrente. Attivare la corrente per poter andare avanti. Quindi... Ma vai, affanculo. Apriamo questa porta qui. Ci sono... In questo... Perché mi tieni gli schiaffi? I fantasmi tirano i coppini. Dobbiamo rifare la stessa cosa che abbiamo fatto con il macchinario del capitolo 2. Dobbiamo togliere i fusibili. Da qua dentro. Prendere quelli... Utilizziamo i... Bengala. Recuperare i fusibili che sono un pochettino nascosti qua dentro. Qui. Ohi. Corri, 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 corri. Qui. E l'altro l'ho visto qua. Ok. Bene. Prendiamo questi fusibili. Attiviamo il tutto. E riaccendiamo la corrente. Molto, molto, molto bene. E adesso dobbiamo tornare indietro. Grazie per aver ceso la luce. E incontreremo uno dei nemici più pericolosi del gioco. Lo SWAT armato. Che non riesco a colpire. Faranno un po' di danni quindi vi conviene stargli distante. Anche perché le munizioni si sprecano un botto con questi nemici qui. Questo sto cercando di indietreggiare pian pianino evitando i suoi colpi. Vedete quanto è un tank sto cacchio da fare. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Adesso. Premiamo sul cancello. La tizia ci compare davanti. La porta ovviamente sarà chiusa. E quindi io dovrò passare di qui. Altro copino? Altro copino. Corriamo. Corriamo, corriamo perché ci sono dei nemici. E andiamo qua in alto. Ok. Ora arriviamo nella zona. Ma addio amico. Un po' più brutta. Perché è quella tutta buia. È il puzzle buio questo sì. Ma non è difficile. Allora praticamente dobbiamo salire sopra questi tubi. Per poter risalire tutta la zona. Dov'è? Qui. Oh. E salta. Sì sì va bene. Sopra. Andiamo di qui. E abbiamo finito il puzzle dei tubi. La velocità purtroppo è quella che è. Quindi non spaventatevi. Voglio non farci gli scherzi. Facendoci credere che c'è qualcosa. Ma in realtà è un altro cadavere fluttuante. Scendiamo. Ho detto scendiamo. Apriamo la porta. E siamo qui. Chi è che lancia una bella doccina? Poi veniamo di qui. Non c'è niente. Peccato. Tutto è caduto. Chi è che si rialzava qui? Nessuno. Strisciane basta. Ok. Porta aperta. Andiamo avanti. Entriamo nelle diverse stanze per vedere se ci sono munizioni o quant'altro mentre la signorina ci compare dal nulla. Non chiudere la porta non ti permettere. Beh ma qua è successo un macello. Dove vai? Scusami. Posso non chiudere. Oh voglio venire anch'io. Andiamo molto lentamente. Porta aperta. No. Non posso chiuderla. Ok. Qua è chiuso. No. Non c'è più una porta. Me la son sognata. Cavolo. Devo andarne a cercare un'altra. Oh grazie. È stato molto facile. Vediamo la nurse che sta guardando un cadavere carbonizzo 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 ehi mi ero dimenticato di te sai sembra di aver visto qualcosa no no ovviamente dovremo andare sotto una ventola in un condotto di ventilazione ci mancherebbe altro non mi sarei nemmeno stupito troppo e cadiamo una porta ah ok questo puzzle è bellissimo cioè non è un puzzle è un momento davvero bello programmato da dio guardate dobbiamo correre in questo corridoio avvicinarci alla porta e dovranno sentire un tum il corridoio si stringerà dobbiamo correre da una parte all'altra quando sentiamo tum vuol dire che si sta restringendo siamo quasi alla fine siamo senza via d'uscita siamo in un corridoio strettissimo non c'è modo di scappare siamo veramente chiusi e invece c'è cucù oh ed eccoci qui siamo usciti caricamento in corso e questo vorrà dire una sola cosa che abbiamo completato il capitolo 3 e adesso avremo il capitolo 4 che si chiama che si chiama Operation sentiamo un elicottero ma ci rivediamo al prossimo grazie a tutti